Il top of the top 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 Eh, sì! Mi dai provo a farlo anche tu! Bene, cominciamo col maiale. Due pori. Mi raccomando, è la prima volta che canto un maiale, state attenti alle parole e scandirle! Esatto, era la prima volta, mi sa che anche l'ultima, il gallo. Oì, mi raccomando, essere più chiari, eh, perché che tempo! Facciamo tutti dei versi, facciamo una grande tribù, non siamo tanto diversi, non provo a farlo anche tu! Esatto, esatto, esatto. D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh? Ci tocca adesso il cavallo, le force! Uè, sempre di corso, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari, e vai! Ma questo che è un cavallo ostacoli! Non ho capito niente! Il cane, the dog! Noi siamo messi, vero? Mi raccomando, il testo! Il testo! Ma non ho capito la parola! Vi ho portato io qua! Che piccolare, ma non è stato male! Noi siamo arrivati a questo punto! Avete capito noi? Avete capito? Avete capito? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.